Buonasera, bentrovati a una nuova edizione del notiziario sportivo di media 24. Il Friuli Venezia Giulia ospiterà l'Europea da 2028. La squadra friulana infatti potrà difendere il titolo conquistato quest'anno a casa sua. Il Friuli Venezia Giulia assieme alla Slovenia organizzerà e ospiterà l'edizione 2028 dell'Europea da torneo di calcio che vede come partecipanti le squadre delle minoranze linguistiche. Il team friulano quindi potrà difendere il titolo conquistato quest'anno proprio a casa sua. Grande soddisfazione per la scelta ricaduta sul Friuli Venezia Giulia, campione in carica quale sede del torneo calcistico europea da 2028. Un successo che testimonia la ricchezza pulilinguistica della nostra regione, valorizzata dal lavoro fatto dall'amministrazione regionale in questi ultimi anni. Lo ha riferito l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, a commento della notizia del Friuli Venezia Giulia quale sede ospitante dei campionati di calcio riservati alle rappresentative delle minoranze linguistiche nazionali d'Europa. Come ha ricordato l'esponente dell'aggiunta regionale, a dimostrazione di quanto la regione creda in questa iniziativa, che esalta la diversità linguistica del territorio, nell'ultima manovra di bilancio è stato stanziato un finanziamento per un torneo calcistico di lingue minoritarie in occasione di GO 2025 e fare così un'esperienza preparatoria sul piano organizzativo in vista di Europea da 2028. Completato il quadro dei match di Coppa Regione di prima, seconda e terza categoria, guardiamo tutti i risultati. In prima categoria, partendo dal girone A, Virtus-Roveredo-Sacilese 2-2, Basiliano-Reanese 1-3, Liventina-Sano Dorico rivolto 1-1. In vetta rivolto 9, incalzano Liventina e Virtus-Roveredo a 7. Nel girone B, Barbeano-Mereto 3-2, Riviera-Tagliamento 2-2, VCR Gravis-San Daniele 2-1, comanda il VCR Gravis con 9, podio completato da Riviera 8 e Tagliamento 5. Nel girone C, Unione Bastofriuli-Vigonovo 3-4, Aquilea-Sangottardo 2-0, Azzanese-Pravis 0-2. A riposo Pasiano, agganciato in vetta dal Pravis con 9 punti. In agguato, Aquilea 6. Nel girone Ebbi, Siaca-Romana-Teor 0-2, Morsano-Serenissima-Pradamano 0-4, Opicina-Sant'Andrea-San Vito 0-2, Morsano-Eopicina-Digiuno Teor-Sant'Andrea-San Vito, Isonso a riposo e Bisiaca-Romana a quota 7, Serenissima-Pradamano a 5. Tanti gol in seconda invece. Nel girone A, Ceolini-Zompicchia 0-4, Lestizza-Sarone 1975, 1-7, Valle-Noncello-Bertiolo 2-0, Spettatore-Rorai-Porcia. In vetta Zompicchia 10, Valle-Noncello 7, Rorai-Porcia-Sarone 6. In B, Prata-Calcio-Flambro 1-0, Moruzzo-Calcio-Bannia 1-0, Real-Castellana-Valvasone 2-1. Comanda-Real-Castellana a 10, seguono Valvasone, Diana-Moruzzo e Prata-Calcio a 6. Nel girone C, Coloredo di Monte Albano-Arzino 1-1, Treppogrande-Arteniese 3-2, Pagnacco-Valeriano-Pinzano 0-5. In testa Spilimbergo, che riposava, e Arteniese a 9 punti, Treppogrande 6, Arzino 5, Valeriano-Pinzano 4. Infine nel girone E, Camino-Profagnicola 3-3, Gonars-Ramuscellese 1-2, Tiezzo-Fulgor 2-2, in vetta con Ars e Camino a quota 9, con la Ramuscellese a 6. In terza nel quadrancolare A, Cavolano-Vcr-Gravis-B2-0, Villanova-Calcio-Zoppolo 1-2, Volano-Cavolano e Calcio-Zoppolo, che hanno chiuso Appaiate a quota 7. Nel B, Maniago-Montereale 2-3, Pordenone-Under-21, Polcenico-Budoia 1-2, Fessa per Montereale e Maniago, che superano il turno. Nel raggruppamento C, Sanquirino-Torre B 1-3 e Virtus-Roveredo-Under-21-Vivarina 4-5. Passano il turno Vivarina da leader con 7 e anche il Torre B con 6. Nel girone D, Sesto-Bagnarola-Nuova-Pocenia 0-3, Varmese-Blessanese 1-1. Vola a punteggio pieno la nuova Pocenia con 9. Nel girone E, pass per Coseano e Caporiacco, Appaiate al primo posto a quota 7. Nel triangolare F, passaggio del turno per lo Soppo-Rash-Satcher con 6 punti. Nel quadrangolare G, spiega Leali il Villanova-Calcio, leader a quota 6. Nel gruppo H, prende l'ascensore il Malisana con 7. Nel girone I, avanza il Villesse a punteggio pieno con 9, con la Damigella-Poggio a 6. Infine nel nucleo L, proseguono il cammino Prosecco Primorie con 7 e Domio B con 6. Grande festa al fan club PN Neroverde 2020 con prima squadra, formazione Under 21 e Pordenone Woman con i rispettivi tecnici e dirigenti e con i vertici societari per la festa di inizio anno Neroverde. Anche stasera, beh insomma è una bella serata, tanta gente, tanto entusiasmo, tanto affetto e in qualche maniera insomma io credo che vada restituito, non me ne voglio a loro, ma già stasera abbiamo fatto due parole in questo senso che ci siamo raccontati che rappresentano la città, rappresentano dei tifosi che a vedervi qua meritate tutta la nostra stima, tutta la nostra voglia di fare bene, come dico nostra intendo chi gioca e chi evidentemente sta fuori, per fare la sua parte, però che posso dirvi, io vi ringrazio perché tanta attenzione, tanto affetto, tanto entusiasmo, non l'avevo previsto, non l'avevo calcolato, pensavo che in qualche maniera forse, sicuramente è difficile ripartire, quando si ricomincia è sempre difficile, però devo dire che il più difficile è stato, ma il vostro affetto, la vostra presenza ripaga tutti e quindi grazie a tutti voi. Sicuramente è un bellissimo evento, una bellissima festa, c'è entusiasmo, noi siamo contenti di questo, dobbiamo stare assolutamente vicini ai nostri tifosi, a questo club anche in particolare, perché il club PN Nero Verde 2020 ormai tradizionalmente organizza queste cose, quindi è bello essere presente qui. Fa piacere vedere questo attaccamento alla maglia e i tifosi che ci seguono dappertutto e che organizzano anche queste feste, quindi fa piacere, la squadra lo sente, questo calore è una cosa molto importante. Veniamo al campo, domenica non si gioca, turno di riposo, prossimo impegno in Coppa Italia promozione, come si è preparata la squadra in vista di questo importante impegno? Sicuramente questa settimana abbiamo lavorato bene, abbiamo messo dentro un altro po' di benzina visto che avevamo questa pausa, ma vogliamo cercare di passare il turno in Coppa e quindi martedì faremo il massimo per cercare di vincere. Noi siamo sempre stati qua anche se il campionato non c'era, l'anno scorso qualche volta ci siamo trovati per noi tifosi del Pordenone sia qua al nostro ritrovo che è il bar San Quilino di via Multini, oppure abbiamo fatto anche una cena di Natale, abbiamo fatto altre cose. Adesso però finalmente ci torna allo stadio che è la cosa più importante. L'abbiamo già fatto per la Coppa Regione, per la prima di campionato. Speriamo che sia di buono spizio questo inizio, noi siamo sempre stati vicino, saremo ancora vicino al nuovo Pordenone del Presidente Zanotel e vediamo un po' come andrà questa sezione. Ecco, la società che ha risposto alla grande portando qui non solo i dirigenti ma anche i nuovi giocatori di questo nuovo sodalizio che comunque ha approcciato anche bene alla nuova stagione del campionato di promozione. Sì, certamente, oltre anche a giocatori e a dirigenti ci sono anche il gruppo squadra che farà una parte, il gruppo squadra che farà la terza categoria, la seconda squadra del Pordenone, alcune ragazze che faranno anche loro il campionato nero-verde. E' bello dai, cerchiamo di creare il clima in collaborazione con la società. Abbiamo parlato noi già dall'inizio quando loro sono insediati, noi saremo sempre sul loro fianco, vogliamo fare questi ritrovi per creare anche il gruppo sia una società la squadra e noi tifosi veramente. Ecco, le metto anche subito un po' di pepe sulla coda, al di là del martedì in Coppa ci sarà sabato invece il primo derby di questo Pordenone a Corva, un Corva agguerrito che aspetterà i nero-verdi un Corva anche tra le società più attrezzate di questo nuovo campionato di promozione. Sì, quando arriverà il Pordenone in qualsiasi stadio noi troveremo sempre molto astio calcistico ovviamente, sportivo. E magari per certi posti qua, Torre, Corva e Corvenos, sarà ancora peggio perché ovviamente c'è una rivalità extracittadina importante quindi va bene. Noi siamo pronti perché noi abbiamo fiducia nella nostra società, nella nostra squadra. Sappiamo che l'hanno fatta bene, il mister Campanella ha fatto una bella formazione, un bel gruppo e abbiamo fiducia. Ecco, a me piace pensare che adesso il Funk Lab pieno nero-verde 2020 può essere da esempio proprio a tante realtà di provincia che stanno emergendo. Vedi Chions, vedi Corva che cominciano ad avere Roveredo, che cominciano ad avere anche la loro fascia un po' più calda. Magari quindi vedervi sui campi della provincia può essere da simolo per altre tifoserie. Sicuramente, sicuramente, anche perché so che la società sta lavorando per avere sinergia con tutto il territorio, quindi diciamo che tutti quanti dobbiamo lavorare nel senso di inizioni. Poi chiaramente il Campanella di provincia farà da tirante per tutte le altre realtà, però è giusto che ci sia anche un po' di rivalità alla fine, comunque ci sta anche quello. E dopo tutti al chiosco a bere una birra. Sì, sicuramente. Noi siamo qua, l'offriamo stasera chi vuole venire, chi è già venuto, chi sta bevendo già, siamo pronti a offrirla anche ad altri. Nel decimo anniversario dalla tragica e prematura scomparsa di Riccardo Meneghel, domani dalle ore 19 la polisportiva Tamai, in collaborazione con Fiume Veneto Bannia e Prata Calcio Futuro Giovani, organizza il Memorial intitolato proprio a Riccardo. È tutto pronto per il Memorial Riccardo Meneghel 2024. Nel decimo anniversario della tragica e prematura scomparsa di Riccardo Meneghel, domani dalle 19 la polisportiva Tamai, in collaborazione con Fiume Veneto Bannia e Prata Calcio Futuro Giovani, organizza il Memorial Riccardo Meneghel 2024 allo stadio comunale Luigi Verardo. Si affronteranno per prime le formazioni ospiti, quindi alle 19.50 sarà la volta di Tamai Prata e alle 20.40 Tamai Fiume Veneto, riedizione a tre giorni di distanza dal derby di eccellenza di domenica. Riccardo, ex giocatore classe 95, era partito nel 2008 proprio dalla trafila giovanile del suo futuro Giovani, oggi Prata Calcio, deceduto prematuramente nel 2014 a soli 19 anni a seguito di un incidente stradale. In gara, nella formula di un triangolare con match di soli 45 minuti, le prime squadre di Prata Calcio, Fiume Veneto Bannia e Tamai, sue ex squadre nel ricordo associato del giovane difensore promessa del calcio regionale, che ha vestito anche le maglie della Primavera dell'Udinese nel 2012 e del Treviso Calcio nel 2013. Con la maglia del fiume Veneto Bannia, ha giocato dalla stagione 2009-10 alla 2011-12, stagione in cui Nero Verdi ha vinto il campionato di seconda categoria, con la casacca delle Furie Rosse, l'esordio in Serie D, nella sua ultima stagione ufficiale, era il 2013-14. Parliamo di atletica perché la maratonina di Udine esalta Nimu Bona e l'Azzurra, che ha partecipato a Parigi 2024, Sara Nestola. Grande successo per la maratonina Città di Udine, che ha visto alla partenza ben mille concorrenti, cui si sono aggiunti i 600 della Straudine, con le strade del centro che si sono trasformate in un allegro serpentone colorato. Vogliamo che sia una giornata di festa per tutti gli sportivi friulani e non solo, noi siamo una maratonina internazionale, 24esima edizione, abbiamo gente, atleti, che è un'altra di livello, che ci hanno onorato la loro presenza in questi 24 anni, anche quest'anno abbiamo dei grandi campioni, ma cerchiamo di coalizzare, avvicinare gli sportivi della nostra regione e delle regioni vicine perché vogliamo offrire anche la bellezza della nostra città all'insegna dello sport. Terzo assoluto è stato il campione d'Europa a Roma lo scorso mese di giugno, Pietro Riva. Mi spiace di non aver forse ottenuto il risultato che volevo, questa manifestazione molto bella, ho dato tutto quello che potevo ma non è stato sufficiente per vincere e sinceramente pensavo anche di correre un po' più veloce. Mi allenerò tanto per rifarmi perché questo evento merita e cercherò di arrivare veramente molto più preparato la prossima volta. A Coimbra in Portogallo, podio per i goriziani della Dynamic Gym in Coppa del Mondo, Marco Bisiac. C'è tanta gorizia negli straordinari successi della nazionale italiana di parkour a Coimbra in Portogallo, dove si è svolta l'ultima tappa della Coppa del Mondo 2024 di parkour. Protagonisti assoluti sono stati infatti Luca De Marchi e Lautaro Chialvo Bantle, atleti di punta della società Dynamic Gym che ha sede nel capoluogo isontino e che da tempo rappresenta un serbatoio fondamentale anche per la nazionale. I due atleti, uno goriziano doc e l'altro di origine argentina, gareggiano in due specialità diverse. Luca nella speed, una gara a tempo con ostacoli e Lautaro nella freestyle che richiede di cimentarsi in coreografie con salti di varie difficoltà. Fin dal primo giorno della competizione, nelle qualifiche, i due goriziani si sono distinti rispetto a tutti gli altri partecipanti con Luca De Marchi che si è posizionato subito al primo posto, mentre Lautaro Chialvo Bantle che si è classificato terzo. Poi, nel corso della competizione, Lautaro ha migliorato ulteriormente la sua prestazione e nel finale ha conquistato il secondo posto in classifica. Luca De Marchi invece in semifinale si è scontrato con il padrone di casa portoghese e con una superba prestazione lo ha superato con un buon vantaggio. In semifinale, vige la regola dello scontro uno contro uno o indipendentemente dal tempo passa in finale colui che per primo taglia il traguardo. In finale, poi l'atmosfera era alle stelle perché era in programma un derby. De Marchi, nella seconda batteria, ha sfidato l'altro italiano e vice campione del mondo in carica, Andrea Consolini, e dopo una corsa testa a testa è riuscito ad arrivare a qualche decimo prima dell'amico e compagno di squadra, aggiudicandosi la medaglia d'oro. Queste ottime prestazioni vedono l'Italia e gli atleti goriziani nuovamente protagonisti in campo internazionale e adesso, nemmeno il tempo di godersi questo straordinario risultato, è già tempo di tornare al lavoro con il tecnico Nicolas Visentin che li sta preparando al meglio per il prossimo appuntamento, quello più importante di tutta la stagione. Parliamo del campionato del mondo che si svolge ogni due anni e quest'anno sarà ospitato ancora dal Giappone il 15-16-17 del mese di novembre. TGM Sport Friuli Venezia Giulia termina qua, adesso la linea passa a spadino per le pillole del Tg Chiosco, a seguire Francesco Tonizzo con una rubrica dedicata al Giro Internazionale del Friuli Venezia Giulia, parliamo di ciclismo e ancora dopo la partita del campionato di eccellenza tra Mugia 1967 e San Luigi. Grazie per essere stati con noi, una buona serata. Grazie per essere stati con noi, una buona serata.